Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, l'universo, parliamo di una cosa diversa come l'universo, che sappiamo essere ricco di misteriosi corpi celesti e alcuni di questi, che sono appunto chiamati buchi neri, hanno, diciamo, un fascino particolare per via della loro essenza inafferrabile e, purtroppo devo dirlo, pericolosa. Ed è proprio un buco nero che gli scienziati si stanno occupando per ora. Eh sì, perché a quanto pare vicino alla Terra ce n'è uno davvero grande, 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 grande. Ma a dirla tutta, è molto più vicino al nostro pianeta più di quanto si potesse pensare fino ad ora. Si tratterebbe del secondo buco nero supermassiccio vicino a noi, dopo quello già scoperto, osservato e già analizzato Gaia BH1. Sapete che poi mettono i nomi a tutto, no? Ma attenzione, perché questo nuovo buco nero ha delle particolarità davvero interessanti. Ma come detto, c'è già un buco nero particolarmente vicino alla Terra, che negli ultimi anni è stato oggetto di osservazioni il più possibile approfondite. Ribattezzato Gaia BH1, questo corpo celeste già rilevato vive nella costellazione dell'Ofiuco, a 1600 anni luce di distanza da noi, quindi insomma abbastanza lontano. Proprio per la sua presenza ha portato gli scienziati a dover indagare su alcuni buchi neri nascosti, perché per quanto siano poterosi e energici i buchi neri possono nascondersi dietro nubi stellari o all'interno di piccole galassie, passando per forza di cose in maniera inosservata. A svelarne la presenza sono soltanto alcuni indizi, che non sempre fanno una prova certa, come ad esempio l'emissione di energia e il moto delle stelle della materia nella zona dove si trovano. Proprio basandosi su tutti questi indizi un paio di scienziati del Center for Astrophysics, un certo Fabio Pacucci e Avi Loeb hanno rilevato il nuovo buco nero che si troverebbe nella galassia Nana Leone 1 all'interno dell'omonima costellazione. C'è però un piccolo problema, per questo ne stiamo parlando. In pratica i buchi neri demoliscono migliaia di stelle e il caos che si genera intorno ad essi rende molto ma molto difficile la loro osservazione. Secondo gli esperti il nuovo buco nero, ribattezzato Leo I, si troverebbe vicino alla stella Regulus perché le stelle e la materia intorno sembrano accelerare mentre si avvicinano a qualcosa al centro. In base a tutto ciò il buco nero Leo 1 dovrebbe essere ben 3 milioni di volte più massiccio del Sole, ma avere delle certezze è praticamente impossibile. Secondo gli scienziati il problema sta proprio nella galassia ospite del buco nero, la cui formazione stellare si sarebbe fermata circa un miliardo di anni fa, con tanto di dispersione di gas e polveri che permetterebbero una migliore e più accurata identificazione del corpo celeste. L'unica cosa che appare significativa sono i venti stellari che sembrano dimostrare senza ombra di dubbio la presenza di ombre elettromagnetiche legate proprio al buco nero. Ci ritroviamo quindi di fronte a un vero mistero alla fine, perché da una parte sia gli astrofisici Pascucci e Loeb di cui abbiamo menzionato sono certi della presenza del buco nero, ma dall'altra parte non è possibile, almeno adesso e con strumenti a disposizione, osservarlo e avvistarlo per poter attestare definitivamente la sua scoperta e identificarlo senza ombra di dubbio. Per cercare di risolvere tutto, gli scienziati sono sicuramente alla ricerca del cosiddetto disco di accrescimento che si va a formare attorno ai buchi neri e che dovrebbe dimostrare non solo la presenza di Leo I, ma anche raccontare di più su come è fatto e su come stia in qualche modo agendo. Ciò è già importante di base, ma diventa ancor più importante perché è molto vicino alla Terra. Quindi disterebbe soltanto 820.000 anni luce da noi che, sì, vabbè, a noi sembra un'eternità, ma non è che sia proprio così. Non resta dunque che attendere i prossimi risvolti e i prossimi aggiornamenti. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto di questo video, se volete lasciate la vostra traccia anche qui sotto e noi ci vedremo alla prossima.